ciao amici di youtube allora nuovamente insieme martedì scorso abbiamo saltato il nostro appuntamento lo so sono stata un po monella ma mi dovevo preparare per un lavoro che mi portava fuori e infatti sono andata a bologna e quindi non sono partita presto non sono riuscita a essere insieme a voi e fare la nostra diretta torniamo torniamo insieme avrei voluto in realtà darvi appuntamento già nella giornata di domenica e così farvi vedere cos'è andata a fare a torino la pioggia diciamo che ha un po rovinato i piani nel senso che sono andata al gran balloon a torino volevo farvi vedere come il gran balloon ai vari negozi di antiquariato e questo mercatino che si snoda per alcune vie di torino a partire da porta palazzo in realtà dicevo la pioggia fatto sì che non ci fossero monte bancarelle quindi insomma il giro è stato veloce non sono riuscita a fare un gran che è gran balloon che non so se molti conoscono è questo mercato dell'antiquariato ma anche mercatino che c'è la seconda domenica del mezzo a torino ed è più grande rispetto a quelle che ci sono ogni domenica sempre nello stesso posto torino dove in realtà ogni settimana il balloon è dedicato principalmente all'antiquariato tra l'altro ha scoperto delle vie molto carina è che non conoscevo è un luogo forse dove non molto spesso io quando vado a torino insomma mi soffermo di lì poi insomma sono andata a mangiare in un posto vicino a porta palazzo ho mangiato le patate ripiene buonissime e poi sono andata a vedere portici di carta questa bella manifestazione che c'è da un po di anni che praticamente vede il mondo dell'editoria locale non tramite bancarelle messe tutti sotto i portici di torino che parlano da praticamente la stazione di porta nuova fanno tutti i portici arrivano in piazza castello sia da un lato che dall'altro inutile dire che mi hanno tratto tantissimo questi libri ho fatto anche degli acquisti ho fermato le mie figlie perché sennò avrebbero sbancato tutto avrebbero portato via tante bancarelle ma insomma è stata è stato un bel appuntamento passeggiare per turino e vedere anche un po dicevo così una torino diversa sotto la pioggia visto che appunto pioveva vi do appuntamento a parlare di cosa beh intanto per parlare di roba vintage quindi al di là che io non sia riuscito a comprare niente visto delle cose interessanti che mi hanno dato anche spunto per fare magari altre operazioni diciamo così di marketing non di marketing ma operazioni personali legate a hobby dicevo quindi vintage voi avete mai comprato i mercatini vintage cose di antiquariato non solo vi piace immergervi in questi mercatini cercare diciamo così l'occasione giusta quindi magari siete di quelli che vanno al mattino presto perché si dice che al mattino presto ci si faccia si acquistino i pezzi migliori e si riescono a fare offerte migliori magari potreste anche nella community postarmi qualche oggetto vintage che avete comprato e che avete tenuto in casa un oggetto vintage che mi sarebbe piaciuto trovare mi piacerebbe avere ma non saprei proprio dove metterlo è il jukebox mamma mia hanno visto uno tra l'altro expo casa expo casa che poi andrò anche a raccontarvi ho fatto degli incontri interessanti e il jukebox mi è sempre affascinato però insomma un po di cose vintage quella non fanno male mettere in casa quindi aspetto tutti voi parleremo di questo e tanto altro da adesso vi saluto vi mando un bacio e mi raccomando se avete voglia nella community io aspetto anche le vostre foto ciao